Il tema di vendemmie si parla di una stagione molto positiva, quasi di troppa uva. Cosa sta succedendo? Mai contenti, mai contenti, questo sarebbe la dichiarazione. Ma scusate, avere troppa uva, ci sarà sicuramente qualcuno che si... Siccome siamo nel paese nel quale ormai l'odio sociale è strisciante, no? Vedere un carro d'uva vuol dire che qualcuno guadagna, allora piuttosto che guadagni lui è meglio che facciano fame tutti. Io sono da parte di chi riesce a fare economia e riesce a arricchire il territorio nel rispetto dell'ambiente. Condivido le preoccupazioni di molti cittadini che parlano dei trattamenti, dei fitofarmaci, ma guardiamo anche il vigneto del futuro che a mio avviso sarà solo biologico, sarà solo rispettoso dell'ambiente. Non solo perché lo chiedono i cittadini vicino al vigneto, ma lo chiederanno di più sempre i consumatori che chiederanno che quel vino sia sempre più rispettoso dell'ambiente. Grazie.